Ciao carissime amiche io sono Anna. E in questo video ti svelerò una breve anticipazione sulla soap spagnola La Promessa. Siete pronti ad immergervi nell'universo affascinante delle serie turche? Non dimenticarti di iscriverti al canale per non perdere i prossimi video e attivare la campanella per non perdere nessun aggiornamento. Dopo anni di silenzio, Curro ha finalmente confessato tutta la verità a Manuel. Io e te siamo fratelli. Curro ha raccontato a Manuel la complessa storia che esisteva tra Alonso e Dolores, rivelando che Alonso è anche il padre di Curro. Di conseguenza, Manuel ha scoperto che lui e Curro sono fratelli. Il matrimonio di Iana e Manuel si avvicina. Il giorno del matrimonio di Iana e Manuel si avvicina rapidamente, e la cameriera non riesce a smettere di pensare alle ripercussioni che questo evento avrà. Nonostante le preoccupazioni, Iana e Manuel si recano all'eremo dove si sposeranno con entusiasmo. Questo è lo stesso luogo dove si sposarono suo fratello Thomas e Jimena un anno e mezzo fa. Ma è ancora incerto se riusciranno a sposarsi o se saranno nuovamente ostacolati dalle vicissitudini che li circondano. Cruz e la decisione di Manuel. Cruz, ignara dei veri pensieri di Manuel, si mostra vicina e comprensiva con suo figlio. Tuttavia, l'erede del Marchesato è pronto a sorprendere tutta la famiglia con una decisione che potrebbe scuotere per sempre le fondamenta della promesa. Il suo matrimonio con Iana. Cruz scopre nel modo più imprevedibile il segreto meglio custodito da suo figlio. Il furto del diario di Maria. Santos, su richiesta di Petra, ruba il tacquino di racconti di Maria. Quando Maria si accorge che il suo diario segreto di racconti è stato rubato, si rende conto che, se finisse nelle mani sbagliate, potrebbe avere conseguenze imprevedibili. Emozioni all'eremo. Nonostante tutte le complicazioni e i segreti, Iana e Manuel si recano emozionati all'eremo dove si sposeranno. Solo il tempo dirà se riusciranno a superare tutti gli ostacoli e a coronare il loro sogno d'amore.